Musica Allora, io sono Itta, come sapete, e organizzo un po' gli speakers, il calendario, le locandine, queste cose così. E adesso che sapete cosa faccio io, adesso vi dico che cosa dovete fare voi. Dovete riscrivervi, semplicemente. Non importa, non vi siete iscritte quest'anno, ma non importa, avete perso un anno, come a scuola si recupera, non c'è nessun problema. Allora, i soci che hanno perso un anno semplicemente devono iscrivere se stessi e regalare l'iscrizione a Nonno Lindo, a Zio Vetano, alla vicina di casa Peppina, alla sorella Lilli e alla cugina Lulli. E siamo a posto, è come fare un corso di recupero, nulla di più, siete a posto per tutto il 2021 a questo punto. Voi sapete che cosa avete goduto l'anno scorso o che cosa avete perso l'anno scorso, ma quest'anno abbiamo in programma delle cose spettacolari. Voi non avete idea. Io faccio il calendario, lo metto a posto con le varie proposte e vi posso dire in anteprima che c'è Simone e Tagliello Orbi in gennaio. C'è un grandissimo ottore a febbraio. Abbiamo i tessuti antichi a marzo, abbiamo dell'arte, abbiamo della musica, insomma, il teatro ancora. Quindi una cosa eccezionale. A questo punto mi dite, ma perché mai mi devo iscrivere? Se a me non interessa il programma. Ebbene, avrete uno sconto continuo e consistente con l'Italian Bookshop. Non vi interessa? Non importa. Avrete degli sconti incredibili, ma inimmaginabili, con dei negozi convenzionati. Una sorpresa! Non vi interessa lo shopping? Non ha importanza. E avrete anche una sezione riservata ai soci sul website. Potete esprimere le vostre idee, suggerire quello che volete, insomma, una vera socialità. In questo periodo è abbastanza buio. E se anche questo non vi convince, ci sono degli eventi assolutamente riservati ai soci. Nessun altro può accedere, soltanto i soci. Il book club che tengo io è un evento riservato ai soci. Quindi il punto è, iscrivetevi, promettetemelo. Auguri e baci!